Perchè ce ne stiamo qui a fare questa veglia strana? Io credo che sia un caso, trasformammo la nostra vita in uno spettacolo. Monticchiello, il paese che mette in scena se stesso. E quindi la vita diventava un lungo spettacolo. E se si facesse lo spettacolo, è proprio il popolo che si domanda che storia si racconta. Invece un fratto. È un spettacolo estivo. Te con Anna? Mi sono tranquillo io. Ho capito. Che problemi hai in un paradiso come questo? Non ti faccio che oggi nella banca mi rimane lo stato. Siamo di cominciare tutto da capo. Ma che dici? Ma non è vero. Ma quanto sei scemo? Ma il resto del palco rimane in piedi? Per ora sì. Per ora sì. Per andare avanti dobbiamo tutti mettere insieme i nostri sforzi. Per ora sì. 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 Vediamo il basso telefono. Come un'attasca. Per ora sì. Grazie a tutti